Ciao ragazzi, sono Fox e sono qui oggi per presentarvi il nuovo structure che è uscito da qualche giorno, Foglia Meccanizzata, nuovo structure appunto a tema macchina che va a rievocare un po' tutti quei mostri macchina che abbiamo già visto nel corso della storia di Yu-Gi-Oh e che in più presenta nuovi supporti ovviamente per rendere un po' più competitivo questo archetipo, comunque questo tipo, il tipo macchina che è uno di quelli più apprezzati dalla community, uno dei più amati. Oltre ovviamente alle carte dell'archetipo, poi la lista completa la troviamo dietro, oltre alle varie carte dell'archetipo, tutti questi macchina, troviamo poi una serie di ristampe veramente veramente interessanti, ormai siamo stati ben abituati per quanto riguarda le ristampe negli structure, già diciamo questi prodotti sono appetibili per via del prezzo accessibile che comunque è intorno ai 10-12 euro e per via comunque del fatto che prendendo tre di questi structure più qualche altra carta, insomma, si riesce a creare un deck abbastanza competitivo, le ristampe appunto aggiungono poi quel più che rendono il tutto decisamente un buon investimento. Allora io direi che possiamo iniziare appunto l'unboxing e la presentazione dello structure. Ovviamente la presentazione la faccio da solo perché non posso farla con il buon scap, però lo ringrazio per avermi inviato il materiale per poter fare questo video. Allora, iniziamo e vediamo subito il boss di questo mazzo, mentre io cerco ovviamente di aprirlo, non è mai una cosa facile. Vediamo se trovo, eccolo qua. Ok. Ecco qua. Allora, abbiamo qui davanti a noi il boss, la carta di base, diciamo, di copertina di questo archetipo ed è la Mech Cittadella. Una carta con 3000 ad attacco e 2500 di difesa, quindi con delle statistiche molto forti, molto interessanti. Carta che non può essere evocata normalmente o posizionata, ma deve essere evocata specialmente per effetto di una carta. Questo, ricordiamo, perché vedremo che comunque il mazzo, l'archetipo, permette tanti modi per poi andare a evocare questo Bones Monster. E inoltre l'effetto rapido di questa carta consiste nel scegliere come bersaglio un mostro macchina che controlliamo, distruggere quel mostro macchina e tutti i mostri controllati dal nostro avversario che hanno attacco pari o inferiore ad esso, ed inoltre se uno o più mostri terra macchina scoperti che controlli, eccetto Mech Cittadella, appunti, vengono distrutti in battaglia o per effetto, mentre questa carta nel cimitero può evocare specialmente questa carta. Quindi da un lato ci permette rapidamente di andare a sacrificare un nostro pezzo per pulire parzialmente o totalmente il campo dell'avversario, e dall'altro invece ci permette di riciclare comunque questa carta a rievocarla appunto quando andiamo a perdere un pezzo in battaglio per effetto. Molto forte, a me questa è veramente una carta che piace molto. Andiamo avanti e vediamo il Mech Possess Deposito. Vabbè, sui nomi oramai sapete che non dico più nulla, perché non avrebbe senso. Allora, oscurità, questo. Se questa carta viene evocata normalmente o specialmente possiamo scegliere come bersaglio un Mech nel cimitero, eccetto se stesso, ovviamente, ed evocarlo specialmente in difesa, però non può attivare i suoi effetti in questo turno. Poco male, perché comunque ci permette appunto di riempire il campo. Inoltre permette di scegliere come bersaglio un altro Mech che controlliamo ed una Magia Trappola controllata dall'avversario e rimbalzarla in mano. Questo secondo me è un effetto molto molto forte, peccato che targhetti la Magia Trappola in questione, però è veramente una buona carta anche questa. Poi abbiamo la prima delle super di questo structure, il Mech Incursor Aereo. Mi piace tantissimo l'artwork di questa carta, è bellissimo. Questa dice che possiamo scartare un altro Mostro Mech ed evocare specialmente questa carta dalla mano. Scartare al cimitero potremmo scartare la Cittadella, che quindi una volta al cimitero poi può rievocarsi quando perdiamo un pezzo in battaglio per effetto, quindi già vedete qualche piccola interazione. Inoltre durante il turno dell'avversario, effetto rapido, possiamo scegliere come bersaglia un Macchina che controlliamo ed evocare specialmente dal deck un Mech con nome diverso e livello pari o inferiore a quel Mostro e se lo fai distruggi quel Mostro scelto come bersaglio. Quindi in sostanza ci permette, se ad esempio il nostro Avversario ha targhettato un certo Mostro Macchina che controlliamo e lo sta per distruggere o comunque quella carta sappiamo che non ci serve e quindi possiamo mandarla al cimitero. Insomma, quando possiamo permetterci l'uso o dobbiamo perdere un pezzo, possiamo decidere appunto di sfruttare l'effetto di questa carta di Macchina in Cursor Aereo per lasciare andare quel pezzo e evocare specialmente dal deck un Mech con nome diverso e livello pari o inferiore. Quindi permette anche di non perdere delle carte senza avere qualcosa in cambio. Questa è una carta veramente forte, faccio notare anche le statistiche che non sono da poco. Poi abbiamo questa magia, questa è assurda, cioè è veramente fortissima perché possiamo attivare uno di questi effetti, scartare una carta qualsiasi e aggiungere due Mech con nomi diversi l'uno dall'altro dal deck alla mano. Già avete capito che avere delle carte, scartare al cimitero, insomma mandare delle carte al cimitero non è una cosa così brutta per questo mazzo, anzi può essere una cosa positiva, in più questa ci fa aggiungere due carte ed in più se scartiamo una carta che è un Mech, aggiungiamo due carte Mech con nomi diversi, non per forza due mostri ma due carte. Quindi ragazzi, direi che non è male perché capite che scartando la cittadella, che ripeto è carta chiave del mazzo e praticamente ogni carta dell'archetipo può trovare una sinergia con questa carta, scartando la cittadella che al cimitero appunto poi ha una sua utilità, noi addirittura andiamo ad aggiungere due carte generiche Mech. Poi abbiamo questa magia rapida, riattivazione non autorizzata che ci permette di scegliere come bersaglio un macchina che controlliamo ed equipaggiare un'unione, macchina appropriato dal deck o dalla mano a quel mostro, però quel mostro unione non può essere evocato specialmente in questo turno. Allora, in questo mazzo è fortissimo, ma in generale in qualsiasi mazzo che vado ad utilizzare dei macchina unione e non è che sono così rari perché ad esempio in abc questa carta sarebbe fortissima, quindi è veramente una carta molto molto interessante. Andiamo avanti, vediamo il Mech Irradiatore, anche questa livello alto, statistiche abbastanza elevate soprattutto di difesa. Possiamo scartare un altro mostro Mech, quindi ancora potremmo scartare la cittadella ed evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Puoi scegliere come bersaglio un macchina che controlliamo ed evocare specialmente dal tuo cimitero un Mech con nome diverso e livello pari o inferiore a quel mostro e se lo fai distruggi quel mostro scelto come bersaglio. Ancora una meccanica simile al nostro incursore aereo, meccanica molto simile, solo che questo evocava dal deck, questo evoca dal cimitero, però l'idea di base è la stessa, le utilità sono le stesse. Carta storica Mech Fortezza, carta fortissima a mio parere una delle più forti che ci siano per quanto riguarda questo architipo perché questa dice puoi scartare uno più mostri macchina la cui somma dei livelli sia 8 o superiore per evocare specialmente questa carta dalla mano al cimitero. Quindi capite che in un qualsiasi mazzo generico che va ad utilizzare i mostri macchina e che ha interazioni con il cimitero mi viene a pensare, mi viene in mente Orkust, questa carta è assurda perché noi scartiamo gli Orkust che magari in mano sono inutili e al cimitero invece sono fortissimi, in più evochiamo questa carta che comunque è un livello 7, 2500 d'attacco che in più ci dice che se viene distrutta in battaglia possiamo scegliere come bersaglio una carta controllata dall'avversario e distruggerla e inoltre prima che l'avversario possa risolvere un effetto che bersaglia questa carta noi possiamo guardare la sua mano e scartargli una carta. Per chi non la conoscesse insomma questa è una carta che ha fatto un po' la storia del gioco. Così come Mac Fusoli era uno dei mostri unione più iconici del gioco se così vogliamo definirla, quando questa viene evocata normalmente possiamo aggiungere un Mac dal deck alla mano eccetto se stesso, questa è la cosa probabilmente per cui è più utile questa carta. Abbiamo poi anche il Mac Pacificatore, Mac Forza, questa da evocare non è proprio facilissimo. Il Mac Megaforma che per me non è male, è una carta molto interessante perché comunque possiamo offrirla come tributo e evocare specialmente un mostro Mac dalla mano o deck eccetto appunto Megaforma, però appunto potremmo potenzialmente evocare la cittadella, quindi assolutamente un'ottima cosa. E inoltre se un Mac Fortez ha scoperto che controlli viene mandato dal deck, viene mandato al tuo cimitero mentre questa carta è nel tuo cimitero, puoi bandire quel Mac Fortez ed evocare specialmente questa carta. Quindi volendo trova anche una sinergia con quest'altra carta di cui vi ho parlato poco fa, insomma direi che a mio parere questa carta andrebbe giocata, gli andrebbe concessa una chance. Abbiamo anche il Mac Cannone che può essere utile magari proprio per chiudere quando ti serve fare qualche danno aggiuntivo, Mac Soldato, Mac Cecchino, Mac Difensore, insomma tutte le carte facenti parte di questo archetipo, il Comandante Covington ovviamente che ci permette di evocare il Mac Forza. E iniziamo con le ristampe veramente interessanti perché poi abbiamo il Jizukiru, il Kaiju Distruttore di Stelle, uno dei Kaiju comunque più giocati, molto forte, è forte perché è luce, è forte perché ha tanto attacco e soprattutto è un Kaiju. Era stato ristampato poco finora e sicuramente questa è una ristampa molto utile, molto interessante. Abbiamo poi Russell lo Spazzaneve Frettoloso, l'artwork è bellissima, l'effetto un po' meno. Poi abbiamo il Birdman, vabbè, Genex Aleato Uomo Uccello. La ristampa di questa carta è sempre ben accetta, veramente molto bello, molto forte questo tunnel. E un'altra ristampa veramente tanto attesa è lo Scrap Recycler, il Riciclatore di Frammenti che viene attualmente giocato in Orcus, comunque è stato giocato in Orcus e in questo tipo di mazzo ovviamente può sfruttare al massimo il suo effetto, la sua potenza perché appunto non solo permette di mandare un mostro macchina dal deck al cimitero, quindi potenzialmente appunto la nostra Mac Cittadella, ma addirittura permette una volta per turno di rimischiare due mostri terra macchina di livello 4 dal tuo cimitero nel deck e pescare uno, insomma, in questo deck potenzialmente potremmo averne. Poi l'ingranaggio messa appunto di coppia, cacciavite di destra e cacciavite di sinistra ovviamente, entrambi sono stati messi, ristampe carine ci possono stare, poi i DeskBot 001 e 003, anche questi ci possono stare come ristampe e ora vediamo le magie. Il perimetro di difesa Mac, allora questa non mi piace tantissimo perché appunto dice che quando controlliamo un mostro di livello 7 superiore macchina, i mostri del nostro avversario non possono attaccare gli altri mostri macchina che controlliamo di livello 6 inferiore e inoltre il nostro avversario non può sceglierli come bersaglio con gli effetti. è un pochino lenta questa carta, non è malissimo però non mi piace tantissimo, anche questa e la meca unità corazzata non mi piace tantissimo, mentre invece mi piace molto il richiamo di ferro, bellissima ristampa, carta fortissima perché in un mazzo macchina comunque permette di rievocare dal cimitero un mostro macchina di livello 4 inferiore e quindi permette appunto capite di avere un extender praticamente gratis per cui dopo fare le nostre combo, molto molto interessante, pescata di ferro insomma non mi piace tantissimo questa carta in realtà perché sì ti permette di pescare due carte se controlliamo due mostri con effetto macchina però poi dopo che abbiamo pescato due possiamo evocare specialmente solo un'altra volta quindi non lo so non mi piace tantissimo, inversione magnetica anche questa è una ristampa molto molto bella, molto interessante che ci dà la possibilità di evocare specialmente un mostro macchina o roccia che è attualmente nel cimitero o bandito e che non può essere evocato normalmente, in sostanza se noi abbiamo max cittadella, bandita o nel cimitero in questo mazzo la possiamo evocare specialmente quindi molto molto interessante, rimozione di limite in un mazzo del genere non può assolutamente mancare, serve ovviamente per chiudere, abbiamo anche i legami dei compagni, questa è una bella ristampa che ci permette appunto di andare a riempire il campo evocando appunto mostri con lo stesso tipo, attributo e livello di un mostro che abbiamo scelto come bersaglio e che controlliamo. La Potofavaris oramai è stata liberata, è stata riportata a tre e praticamente la troviamo ristampata sempre e comunque. Il ciclone cosmico, questa è una bellissima ristampa ragazzi, molto molto forte, in questo momento tra l'altro risulta essere probabilmente la carta, sicuramente una delle carte, se non addirittura la carta più forte per spaccare le back row del nostro avversario perché appunto non spacca ma bandisce, quindi veramente veramente utile come ristampa. Abbiamo anche la supply squad, la squadra di rifornimento che è un'altra ristampa carina, super guardia mech, questa ci può stare ragazzi perché questa dice che possiamo bersagliare come un mostro macchina che controlliamo ed evocare specialmente un mostro mech con nome diverso dalla tua mano deck e distruggere il mostro che avevamo scelto come bersaglio. Capite bene che come ho spiegato all'inizio video, anche in questo caso se stiamo per perdere un pezzo perché c'è stato targettato dall'avversario, noi possiamo attivare questa carta in risposta, lo tributiamo noi, di fatto lo sacrifichiamo noi per portare un altro mech dal deck o dalla mano. Inoltre è utile anche nel cimitero perché possiamo bandirla dal cimitero per scegliere come bersaglio tre macchine bandite o nel cimitero, rimischiare nel deck e pescare uno, quindi anche come carta che permette di riciclare pezzi, di pescare, molto utile, molto versatile, mi piace. Cyber fulminatore di evocazioni, ogni volta che uno o più mostri macchina vengono evocati specialmente questa carta è scoperta nella zona magia e trappole, facciamo 300 danni. Questa diciamo che si potrebbe anche evitare di giocare. Ritorno al fronte, altra bella ristampa che ci permette di rievocare in difesa un mostro nel cimitero, una sorta di richiamo del posseduto in difesa. Ne abbiamo due copie, scusate se non l'ho fatto vedere. Poi abbiamo trucco trappola, altra ristampa veramente veramente bella, veramente interessante. Ovviamente proprio per la ristampa di trucco trappola sono state messe due copie di ritorno al fronte. Trucco trappola direi che non ha bisogno di presentazione, un'ottima ristampa. Batte nell'adruncolo. Sì, in questo structure c'è qualcosa che fa danno all'avversario direttamente, però non è che mi piaccia tantissimo. Se facciamo danno da combattimento a un giocatore fa ritornare quel mostro nella mano. Però, boh, non mi piace tantissimo, insomma. E in più, ragazzi, che ristampa. Per chiudere proprio l'ultima carta di questo structure abbiamo Solemn Strike. Insomma, ragazzi, abbiamo visto il Kaiju, abbiamo visto Ciclone Cosmico, abbiamo visto Trap Trick e ora Solemn Strike. Bella, bella ristampa. È giusto mettere a disposizione di tutti carte di questo tipo, carte che comunque sono sempre forti, vengono giocate in ogni meta, comunque trovano il loro spazio. E, insomma, è giusto renderle common dopo tanto tempo in cui sono state, dopo gli anni in cui circolano, insomma, perché questa carta, se non sbaglio, avrà un 3-4 anni sicuramente. La sua prima ristampa, credo sia di 3-4 anni fa, quindi assolutamente contento di questa ristampa, molto molto utile. E, che dire, ragazzi, io credo di avervi dimostrato che il mazzo è interessante. Non so se potrà mai diventare effettivamente un mazzo che domina il meta, un T1 incontrastato, come possiamo pensare ad esempio un Salamagna che invece ha fatto la sua bella impressione nel meta. Però sembra un mazzo abbastanza divertente da giocare, dove ovviamente devi sfruttare il tuo boss monster, la tua cittadella, e devi cercare di fare danni attraverso l'emozione di limite e altre carte comunque utili come queste. E, in generale, comunque, ragazzi, se non siete particolarmente interessati all'archetipo, però questo structure, come tanti altri, come stiamo vedendo nell'ultimo periodo, hanno delle ristampe veramente, veramente forti, veramente utili. E quindi, se siete interessati anche solo banalmente alle ristampe, è un acquisto che assolutamente è giustificato, è un investimento per cui vale la pena, che vale la pena fare, insomma. E, detto questo, ovviamente ci sono le solite cartine promozionali. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!